La spidocchiata o scelta selezione dei germogli della pianta è fondamentale nella crescita e per l'annata agraria a cui si va incontro. Questa operazione a Pantelleria si chiama spidocchiatura, consiste nel togliere via tutti i pidocchi come lo chiamiamo noi che in italiano si chiamano succhioni o pappatoni, qualcosa del genere. In modo tale che intanto ha la funzione di allentare un po' la pianta dalla vegetazione in modo che sia abbastanza ventilato ma soprattutto togliere via tutti i germogli che tirano via la linfa inutilmente. Quindi si tolgono via lasciando i tralci a frutto in modo tale che la linfa è tutta loro ed è il futuro grappolo. Questa è una vite che è piena di succhioni e chiaramente se io non li toglievo crescevano alti. Una cosa è avere 30 germogli a frutto, un'altra cosa è averne 50 o 60. Tutto quello che diciamo è fra virgolette inutile che in competizione con i germogli va tolto via. È un'operazione semplice ma difficoltosa per quanto riguarda la fatica insomma durante tutto il giorno stare piegati a togliere via i pidocchi è faticoso.